Dicesima Domenica del Tempo Ordinario Anno B. Non temere, soltanto a di fede. Il Vangelo di questa Domenica ci presenta due miracoli di Gesù. La risurrezione della figlia di Gairo e la guarigione della donna colpita da continue emorragie. Con questi due miracoli, Gesù ha voluto da una parte venire incontro alle sofferenze umane e, dall'altra parte, ha voluto dimostrare la sua potenza divina sul male e sulla morte. Il male e la morte erano entrati nel mondo a causa del peccato. Per invidia del diavolo la morte è entrata nel mondo e ne fanno esperienza coloro che le appartengono. Sap 1,24. Per invidia, il demonio ha tentato Adamo ed Eva, volendoli trascinare nell'eterna perdizione. L'invidia è il più brutto dei peccati. In quanto fa sì che noi ci rattristiamo per tutto il bene che Dio opera nei nostri fratelli. L'invidia è il solo peccato che non dà assolutamente nulla. Gli altri vizi, apparentemente, danno un certo appagamento che, comunque, conduce alla rovina dell'anima. L'invida, invece, dà solo tristezza e rancore. Esaminiamo seriamente la nostra coscienza per vedere se anche in noi serpeggia questo brutto vizio. Impariamo a rallegrarci per tutto il bene che vediamo nel prossimo e a ringraziare Dio per questo. Se di cuore faremo così, il Signore ci premierà, donandoci gli stessi beni. Dobbiamo rallegrarci del bene altrui come se fosse il bene di un nostro fratello carissimo. Dominando sul male e sulla morte, Gesù dimostra di essere il Redentore, ossia colui che toglie i peccati del mondo. Il discorso è molto semplice. Eliminando la morte e la sofferenza, Gesù ci fa comprendere che egli ha anche il potere di eliminare anche il peccato. Il quale è la causa di tutto il male che vi è su questa terra. Da parte nostra si impone però una scelta. Da una parte abbiamo la vita della grazia. Dall'altra, la morte del peccato. Se scegliamo il bene, diffonderemo il bene in questo mondo. Se scegliamo il peccato, non faremo altro che aumentare il male su questa terra. Fino ad arrivare alla morte dell'eterna perdizione. Il contatto con Gesù ha guarito la donna malata. Il contatto con Gesù guarirà anche noi dal male del peccato. Come possiamo entrare in contatto con Gesù? Per mezzo dei sacramenti della confessione e della comunione. In modo particolare, in questa riflessione, vogliamo soffermarci sul sacramento della confessione che ci libera dalle nostre colpe. Per liberare le anime dal peccato. Alcuni santi hanno avuto la missione di dedicarsi completamente al ministero delle confessioni. E così essi divennero come degli intermediari tra la misericordia di Dio e la miseria dell'uomo. Pensiamo a San Pio da Pietrelcina e a San Leopoldo Mandic. I quali passarono la gran parte delle loro giornate dentro il confessionale. Per sanare le anime di tanti fratelli e sorelle. Dio solo sa quante anime. Grazie a loro. Abbiano trovato la salvezza. Entrando in contatto con Gesù. Proprio come la donna di cui parla il Vangelo di oggi. Anche noi prepariamoci ad una buona confessione. Come se fosse l'ultima della nostra vita. Per iniziare una vita nuova, splendente di grazia e ricca di tanti buoni frutti. È lì, nel confessionale, che avvengono i più grandi miracoli. Allor quando l'anima, morta per il peccato, viene toccata dalla misericordia di Dio e diviene bianca come la neve. Un giorno andò da Sant'Antonio un grande peccatore deciso a cambiare vita e a riparare tutti i mali. Commessi. Si inginocchiò ai suoi piedi ed era tale la sua commozione da non riuscire ad aprir bocca. Mentre le lacrime di pentimento li bagnavano il volto. Allora Sant'Antonio gli consigliò di ritirarsi e di scrivere su di un foglio i suoi peccati. L'uomo obbedì e ritornò con una lunga lista. Sant'Antonio li lesse a voce alta. Poi riconsegnò il foglio al penitente che se ne stava in ginocchio. Quale fu la meraviglia del peccatore pentito? Quando vide che il foglio era tornato perfettamente pulito. I peccati erano spariti dall'anima del peccatore e così pure dal foglio su cui erano scritti. Ringraziamo Gesù per la sua bontà e vogliamo essere anche noi toccati ed afferrati dalla sua misericordia, confessandoci bene frequentemente. L'immacolata speranza dei peccatori ci ottenga tutto questo dal cuore del figlio suo.